Sì, siamo preoccupati come Lombardia ma come sistema regioni. I dati che ha evidenziato l'ufficio studi del Senato noi li conosciamo. Sono tagli molto importanti, soprattutto sul pluriannale, oltre 17 miliardi di euro, sono ovviamente insostenibili. Il problema vero è la tenuta del sistema sanitario. Il rischio reale è che molte regioni vadano in disavanzo e alla fine si curino meno i cittadini. La domanda che ci poniamo di fondo è qual è la volontà del governo? Vuole chiudere le regioni, chiudere il comparto sanità gestito dalle regioni? Pensa che sia meglio per un Lombardo, un Trentino, un Molisano essere curato con regole e tutto deciso da Roma? Secondo noi così non funziona perché l'esperienza pregressa di questo paese è l'esatto opposto. Quando il sistema era centralizzato la spesa è andata completamente fuori controllo. Con il sistema gestito dalle regioni abbiamo il sesto sistema come qualità al mondo e non è male. Certo è una media, ci sono regioni che vanno meglio, regioni che vanno peggio. Si può migliorare dove si va peggio e come efficienza siamo il terzo al mondo. Di sicuro gestito tutto da Roma sarà peggio. Grazie. Grazie.